...di Rom era quello di Jasenovac, in Croazia, dove decine e decine di migliaia di Rom furono sterminati. Va chiarito ancora una volta che sia in Italia i Sinti, che sono presenti con una delegazione, che in Jugoslavia e Rom furono individuati dai fascisti collaborazionisti. Sinti, che sono scaldi che sono significative, perché con un po' ha colpito, tutti i maumari sono stati segnati come diversi e marginati. Quindi cosa ci deve far riflettere? La base dell'Olocausto, della Shoah, è sempre quella di considerare come negativo, come diverso, come in qualche modo a un'unità separata. E noi dobbiamo essere considerati di questo per evitare che il futuro si possa vivere in altri contesti in situazioni simili.